L'Assemblea Fiume per l'SRR di Gela ha chiamato a decidere le sorti future della discarica di impazzo dopo che la regione ha chiaramente detto che vuole utilizzare il sito gelese per far fronte all'emergenza di fiuti in Sicilia. È stata messa ai voti una mozione del sindaco Lucio Greco per lasciare invariato il limite delle 450 tonnellate giornaliere. La votazione è terminata in parità e si attendono quindi adesso i prossimi incontri per definire la questione. Gli schieramenti all'interno però dell'SRR appaiono già chiari. Da una parte il sindaco Lucio Greco, i colleghi di Riesi e Sommatino e l'ex provincia, dall'altra parte tutti gli altri sindaci siciliani. La votazione ha confermato quanto da me dichiarato subito dopo quella riunione, afferma Greco, e cioè che se non mi fossi messo di traverso la regione avrebbe già deciso l'ampliamento di timpazzo per potervi conferire fino a 950 tonnellate incurante dell'emergenza ambientale di cui notoriamente il nostro territorio soffre da decenni. La dichiarazione di area ad alta crisi di incidenza ambientale non è frutto di fantasia, continua Greco, ma è il risultato di una serie di controlli che hanno accertato lo stato emergenziale. Sono disposto a rispettare il principio di solidarietà ma mi opporrò con tutte le mie forze all'arrivo di camion da tutta la Sicilia inquinati e carichi di spazzatura. Sono pronto ad intestarmi questa battaglia in tutte le sedi, prosegue il primo cittadino, e deciso a difendere gli interessi della mia città. Siamo infatti di fronte a una situazione così delicata che dovrebbe superare qualsiasi interesse partitico. La mia speranza rimane anzi quella di trovare collaborazione e condivisione da parte di tutte le forze politiche e sindacali. Nel ringraziare, continua Greco, tutti coloro che condividendo le ragioni di questa legittima battaglia, si sono schierati dalla mia parte o tratto da questa vicenda la convinzione che nulla può rimanere come è stato fino ad oggi. Abbiamo certamente il dovere di trovare il giusto equilibrio e la giusta soluzione al problema, ma nessuno può costringere il mio territorio, conclude il primo cittadino di Gela, a subire ulteriormente inquinamento che potrebbe pregiudicare il futuro agricolo e ambientale.